Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Doom Eternal in questo nuovissimo video guida in cui voglio mostrarvi una sorta di easter egg presente all'interno del gioco stesso che consentirà ai giocatori di poter giocare nella loro interezza Doom 1 e Doom 2, direttamente dalla partita in corso. Dunque senza dover accedere a nessun menu particolare, innanzitutto requisiti. Al giocatore sarà richiesto di aver collezionato tutti i cheat code, quindi tutti i floppy disk, che in totale sono 14 e per la precisione 11 sono nascosti all'interno delle missioni, due nascosti all'interno della fortezza del destino e uno ottenibile con un procedimento molto particolare. E a titolo informativo non so ancora se sul canale caricherò un video guida con tutti i collezionabili, probabilmente no perché direttamente in gioco, comprando l'apposito potenziamento nella schermata armatura, tutti i collezionabili verranno direttamente indicati all'interno delle missioni nella minimappa, quindi mi sembrava un po' superfluo. Comunque, 13 di questi cheat code, quindi di questi dischetti, si troveranno naturalmente nelle missioni, quindi vi basterà esplorare, cercate di prendere tutti i collezionabili e tra questi ci saranno anche i floppy disk. Solo uno di questi, come vi spiegavo poco fa, è nascosto e per poterlo ottenere bisogna sbloccare tutti i potenziamenti nella schermata armatura, quindi completare la ruota delle abilità con tutti i 20 potenziamenti. A questo punto, sbloccando l'ultimo, si otterrà in automatico anche il floppy disk. A questo punto andate nella fortezza del destino e diriggetevi verso gli alloggi del Doom Slayer e per praticità vi mostro anche il percorso video. A questo punto, sulla sua scrivania, o comunque in questa stanza, potrete vedere un computer molto vecchio stile, che assomiglia molto a quelli utilizzati negli anni 90 e nei primi anni 2000. Interagendo con esso, potrete avviare il processo di installazione di un software, che per l'appunto è Doom 1 e che come vedete vi richiederà ben 14 dischetti, che sono i 14 appena collezionati. Completato il procedimento, Doom 1 sarà sbloccato e sarà interamente giocabile. Sempre su questo computer possiamo vedere però che ci saranno due icone, quindi due programmi. Uno naturalmente è Doom 1, il secondo naturalmente è Doom 2, che per essere sbloccato però non richiederà di collezionare alcunché. Per potervi accedere dovrete inserire questa password, che sarebbe Flynn Taggart, che vi lascerò anche in descrizione e che corrisponde al nome del protagonista nei romanzi di Doom. Così facendo, inserendo questo codice, si sbloccherà anche la seconda icona e anche Doom 2 sarà interamente giocabile direttamente all'interno di Doom Eternal. Dunque ragazzi, per quanto riguarda questo video guida sul come sbloccare Doom 1 e Doom 2 in Doom Eternal è tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!